bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia quante novità super incredibili per quello che riguarda il futuro di fortnite e questo fine season 2 nel video di oggi parleremo finalmente della patch 12.60 e di qualche data interessante ma vi farò vedere anche delle immagini di alcuni edifici che stanno per arrivare e che sono davvero incredibili prima volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora se riesco a trovare il tasto fantastico l'ho trovato andiamo subito ragazzi a parlare del primo argomento di oggi finalmente la patch 12.60 è stata inserita negli status server per chi ancora non sapesse cosa vuol dire significa che dal momento in cui un aggiornamento è inserito nello status server vuol dire che passano circa sette giorni prima che venga reso pubblico per fare proprio gli ultimi test proprio in game quindi ci aspettiamo al 100% che settimana prossima indicativamente mercoledì o giovedì arriverà finalmente la patch 12.60 e probabilmente sarà seguita subito a ruota dalla 12.61 che invece porterà quasi certamente le overtime challenge per poi accompagnarci fino al 4 giugno dove avremo la patch 13.00 quindi una bellissima notizia andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché come ieri vi avevo anticipato gta 5 è il gioco che epic games sta regalando regalando a tutti voi come fate per ottenerlo vi basta semplicemente andare nello store di epic games quello che trovate non appena aprite il launcher prima di accedere a fortnite il problema è che ragazzi purtroppo arriva un messaggio direttamente su twitter da epic games c'è un po di traffico ora io posso capire che avete dei server esagerati però se mi metti un gta 5 gratis con un gioco che è giocato da milioni di persone vigliacca vigliacca mi si intasa il server chi di voi ha ottenuto l'errore 500 oppure non è riuscito a scaricarlo non può farci nulla loro dicono ufficialmente che stanno cercando di risolvere il problema quindi probabilmente affitteranno dei nuovi server per poter garantire un migliore traffico per tutti i ragazzi che stanno scaricando e devo dire che è veramente un'iniziativa meravigliosa quella di poter scaricare per sempre ed avere gratis gta 5 wow 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 e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché si parla di una cosa molto curiosa praticamente dalla 14 maggio 2019 in game sono presenti degli achievements che si potrebbero ottenere il problema è che ancora nessuno sa che fine abbiano fatto come vedete c'è get the cube ban total oppure c'è gli altri non li leggo neanche fire on e greifer non so che cavolo siano non si capisce né dove vanno messi né perché li hanno messi né quando usciranno pubblicamente se qualcuno di voi ha letto qualcosa al riguardo me lo faccio sapere qua sotto nei commenti perché sono sempre quelle cose che fanno e le lasciano andare nel dimenticatoio ma noi siamo attenti e io ve le ricordo sempre 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 andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi invece ragazzi perché vi ricordo che da ieri sono disponibili le nuove sfide dominio l'ultimo set che garantirà 900.000 punti esperienza sono ovviamente sfide non difficili da fare sono semplicemente un po lunghe dobbiamo danneggiare gente a borgobislacco dobbiamo andare allo squalo dobbiamo vincere una partita entrare nella top 10 dopo essere atterrati a fattoria insomma per livellare il vostro personaggio queste sfide vi consiglio di farle perché danno davvero un sacco di punti esperienza e vi aiuteranno ad ottenere le skin placcate d'oro degli agenti. andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi per chi non se ne fosse accorto siamo entrati nella fase 2 del doomsday event il giorno del giudizio tradotto in italiano in lobby potrete vedere un sacco di nuovi cavi disposti un po qua e un po là quelli che già noi vedevamo erano sotto il numero di voci del menu ma dietro la mia webcam purtroppo qua non si riesce a vedere esattamente in questa posizione se notate troverete degli altri cavi perché vi dico che siamo alla fase 2 del doomsday perché nella fase finale oltre ad esserci cavi sparsi anche in altre location e se non ricordo male forse anche nella lobby principale poi troveremo un altro cavo gigante là sotto dove c'è in poche parole la la bombola di propano dove c'è appoggiata nitroglicerina quella segnerà la fase finale del doomsday dove appunto poi vedremo l'evento di questa season 2 che vedrà mida cercare di conquistare quello è questo che si pensa tutto attivando l'arma di distruzione di massa staremo a vedere se riuscirà oppure se succederà qualche cosa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ragazzi è davvero una cosa incredibile questa immagine mezza sfocata con dei cerchi colorati potrebbe non dirvi niente ma in realtà nasconde un segreto davvero micidiale questo è il trailer del 2019 di salva il mondo perché ci sono dei cerchi colorati che ovviamente sono stati messi dopo non ve lo voglio spoilerare ve lo voglio fare vedere con un video ragazzi guardate un po che cavolo che cavolo guarda che roba già nel settembre del 2019 si sapeva come era la mappa completa di questa di questo nuovo capitolo di fortnite quindi il fatto che fosse già pronta con un bel po di anticipo rispetto all'uscita poi vera e propria del 16 ottobre del del gioco ci fa capire che in realtà l'avevano già completata e stavano già lavorando su tutta la storyline che ci ha accompagnato sia nella season 1 che in questo momento nella season 2 sappiamo anche che di solito lo staff di epi games è circa un anno avanti rispetto a quello che noi stiamo vedendo questo gli consente appunto di poter apportare delle modifiche in corsa o comunque di modificare a loro piacimento la storyline e tanta tanta roba il fatto che l'avevamo sotto gli occhi e nessuno se ne è accorto e prima di salutarci ragazzi volevo farvi vedere un'altra immagine davvero molto interessante eccolo qua secondo delle fonti davvero affidabili arriverà il 9 giugno 2020 il macama x iport hub che cavolo è ve lo faccio vedere un pochino più in grande è una roba meravigliosa siamo come vedete sul promontorio di una mappa è quasi certo che non arriverà nella creativa ma qua si tratta di battle royale e come notate è molto futuristico quasi mi viene in mente dopo che l'ho visto la season 9 dove c'era la vecchia pinnacoli poi trasformata in porca amici e tilted town ora non ricordo bene il nome corretto che era appunto ambientata in una specie di futuro può darsi che questo edificio essendo comunque chiamato nei file di gioco airport nasconda qualche cosa e quel fascio di luce in mezzo cosa sta a significare io non ho davvero idea si parla da una cosa da tantissimo su fortnite cosa mai rivelata vera il discorso teletrasporto come item nel senso nello stesso slot delle trappole tu avrai un oggetto che si chiamerà teletrasporto utilizzandolo ti permette appunto di spostarti in un punto casuale della mappa ed è ovviamente utilissimo qualora tu stessi fightando se ne parla appunto da sempre magari quel fascio di luce mi viene in mente potrebbe essere quello o magari è semplicemente un camion di reboot che è stato attivato però questa è una delle immagini più incredibili per il futuro di fortnite perché è un'immagine vera con fonti affidabili insomma ragazzi anche per oggi io le news ve le ho dette tutte coglievo l'occasione per ringraziarvi in anticipo per un altro meraviglioso traguardo raggiunto qua su youtube 300 mila insieme ragazzi grazie grazie di cuore vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like iscrivetevi i miei canali e io sono proprio adesso in live su twitch ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti